Secondo alcuni esercenti della zona tra il Lido e l'Arzilla il nuovo ponte dovrebbe essere pronto tra il 26 luglio e il 2 agosto prossimo e quanto emerso da un incontro svolto dal comune con le associazioni di categorie e gli esercenti della zona. Due mesi di ritardo dunque rispetto all'annuncio dato a marzo da regione e comune i quali avevano assicurato che la nuova struttura sarebbe stata posata in opera entro maggio. Creerà disagi nella speranza di portare miglioramenti per tutta la zona io sono del parere che se bisogna soffrire qualche giorno per poi avere delle migliorie nella durata degli anni si soffrirà qualche giorno in più tanto giorno più giorno meno ormai quest'anno con questo ponte ce l'hanno fatta vedere però si spera in un finale. Sulla questione è intervenuta la Lega dopo aver appreso dagli esercenti le nuove disposizioni sull'avvio del cantiere. Secondo il partito non mancheranno disagi per la sua installazione. Fare questo montaggio in piena stagione turistica mi sembra un attimino un'incongruenza e crea difficoltà agli esercenti sul territorio oltre che ai turisti che arrivano. Cioè far cantiere in estate mi sembra un pochettino assurdo. Chiudere un territorio in piena stagione quando tutti operano sperano di sfruttare al meglio la stagione gli creerà sicuramente un problema economico difficilmente risarcibile per chi opera e per chi lavora. Difficoltosa la cosa e poi si poteva spostare secondo me a questo punto siamo arrivati agosto farlo a settembre forse era meglio. Secondo la Lega il parcheggio dell'ex hotel Vittoria verrà totalmente chiuso per ospitare il cantiere aggravando l'impossibilità di suffruire degli stalli della zona. Inoltre ci informano che anche il tratto di via Simonetti dal parcheggio all'Arzilla verrà chiuso così come per una giornata sarà interdetto anche l'accesso alla spiaggia del Lido 1 situazione che si ripercuoterà anche in prossimità del baretto locale attivo nel pieno della stagione estiva. Ci hanno detto che chiuderanno momentaneamente durante i lavori il ponte provvisorio il guado e quindi creerà comunque a noi abbastanza disagio diciamo.